Un seminario su autotrasporto, legalità e sicurezza, promosso da Confindustria Ragusa. L'organizzazione opera al fianco delle imprese della provincia e nello stesso tempo collabora con le istituzioni locali, favorendo i processi di dialogo, confronto e collaborazione che sono oggi indispensabili per capire e per agire nel modo migliore. Confindustria Ragusa opera a fianco delle imprese. È un'associazione che tutela e soprattutto prende a cuore la formazione e la possibilità che le imprese siano in regola con le normative vigenti. Il settore dell'autotrasporto è un settore che ci sta a cuore perché, come abbiamo già detto, è un settore nodale, fondamentale per il transito delle nostre merci. Confindustria Ragusa, con questa prima iniziativa, intende fare una panoramica sulle normative vigenti e sull'efficacia dei controlli. Operando non per reprimere, ma a fianco delle istituzioni e degli organi di controllo. Successivamente ci stiamo attivando e saranno disponibili per le imprese associate e anche per le non associate, accedere ai servizi formativi. Uno dei più importanti, che è un adempimento che sarà cogente a brevissimo, è il rinnovo della carta di circolazione del conducente. Ecco, noi come Confindustria, avvalendoci del nostro sistema nazionale, quindi di ANITA, l'associazione degli autotrasportatori di Confindustria, organizzeremo qui a Ragusa, quindi le imprese potranno evitare di fare spostare i propri collaboratori, i propri dipendenti, organizzeremo questi corsi formativi che consentiranno di ottenere il patentino, il rinnovo del cosiddetto patentino, la carta di circolazione. Riteniamo che sia un servizio molto utile perché in loco non dovranno spostarsi i dipendenti, i collaboratori, gli stessi autisti, avranno la possibilità di avere questa formazione qui da noi. Per maggiori informazioni siamo a disposizione delle imprese, sia io sia il nostro collaboratore, il dottor Saladino, seguiamo da vicino queste problematiche. Sì, assolutamente, è un convegno su un tema, un settore cruciale per questa economia, ma non solo per quella locale e nazionale, per come poi spiegheremo nel convegno e anche nell'ambito europeo. È un settore cruciale per quanto riguarda il settore economico perché movimenta tanto danaro, in Europa si parla dei mille miliardi, e dal punto di vista sociale perché occupa tantissime persone tra lavoro diretto e indiretto, e si parla anche qui di numeri molto alti, 10 milioni di persone nell'ambito europeo. Quindi per arrivare invece all'ambito locale, sappiamo appunto essere un settore importantissimo anche per questa economia, abbiamo voluto fare il punto della situazione con gli addetti al settore di questa provincia, con i quali confrontarci sulle tematiche vigenti, trovare anche punti di convergenza su tematiche comuni, diciamo, e anche offrire spunti e riflessioni in ordine a delle normative europee che ormai praticamente riguardano il settore appieno. Il tema dei controlli e della legalità per noi è sempre stato un tema fondamentale ed essenziale perché l'attività delle imprese, soprattutto di quelle che operano nel rispetto delle regole, deve fraffonto invece ad una serie di soggetti che invece queste regole non le applicano. E quindi questo è chiaro che costituisce una forma di concorrenza che non è accettabile. Per questo noi diffondiamo su tutto il territorio proprio questi temi, questi argomenti che sono la legalità, ovviamente associati alla sicurezza, quindi alla sicurezza della circolazione, alla sicurezza sulle strade, il connubio è stretto e su questo appunto noi portiamo avanti l'attività della nostra associazione. Grazie. Grazie. Grazie.